La scarsa visibilità, il malfunzionamento dei lampioni dei dintorni oppure un'imprudenza. Sarà la procura della Repubblica di Reco a far luce sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente stradale costato la vita sabato sera a una 61enne marocchina investita uccisa in città mentre attraversava il tratto iniziale di Corso Matteotti nel rione di San Giovanni. L'ipotesi di reato nei confronti del settantenne alla guida della BMW che ha travolto la donna è omicidio stradale. Agli inquirenti il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto sulla base dei rilievi svolti dagli agenti di polizia locale. Pochi minuti prima delle 19 la donna avrebbe attraversato nei pressi della rotonda fra Viale Adamello e Corso Matteotti dove peraltro sono presenti le strisce pedonali. Il violento impatto con la grossa vettura che scendeva in direzione del centro città non gli ha lasciato scampo. I medici giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso della vittima, residente poco lontano al luogo dell'incidente. Subito si sono scatenate le polemiche e da giorni sono stati segnalati i malfunzionamenti nell'impianto di illuminazione di Corso Matteotti e la scarsa illuminazione per via dei lampioni fuori uso si somma all'asfalto reso viscido dalla pioggia. La pericolosità dell'incrocio che si trova su una strada molto trafficata. La principale arteria che collega al rione di Castello con i quartieri alti della città. A poca distanza dal luogo dell'incidente aveva perso la vita tempo fa un altro pedone investito. Dopo quello schianto fu posizionato un semaforo a chiamata per agevolare l'attraversamento in sicurezza. L'inchiesta aperta dalla procura dovrà far luce sulle responsabilità dell'incidente.